Buongiorno a tutti, oggi è martedì 21 aprile, ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni capitolo 3 versetti dal 7 al 15. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto, il vento soffia dove vuole, ne senti la voce ma non sai da dove viene né dove va, così è chiunque è nato dallo spirito. Gli replicò Nicodemo come può accadere questo? Mi rispose Gesù tu sei maestro in Israele e non conosci queste cose, in verità in verità io ti dico noi parliamo di ciò che sappiamo, testimoniamo ciò che abbiamo veduto ma voi non accogliete la nostra testimonianza, se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Il Vangelo di oggi propone la seconda parte del dialogo tra Gesù e Nicodemo, un dialogo che come dicevamo ieri è avvenuto di notte perché è simbolo della notte, dell'incomprensione che sarà illuminata solo dalla luce della Pasqua. Oggi infatti questo processo di illuminazione che la Pasqua di Gesù Cristo produce nella notte di Nicodemo ma anche nella notte di ogni nostra incomprensione, di ogni nostro compromesso che è sempre generato dalle paure di uscire dallo scoperto, di uscire alla luce del giorno, ecco questo processo di illuminazione si fa sempre più evidente. Del resto lo sappiamo tutti, Pasqua significa, si dice in ebraico Pesach e significa passaggio, però forse non sappiamo che come tutti i termini di questa bella lingua ebraica hanno una polisemia nella loro essenza, quindi possono essere indicati con diversi significati. A volte anche opposti e a volte anche simili e il termine Pesach può significare non soltanto passaggio ma anche salto e questo è molto interessante perché quando noi saltelliamo in effetti cambiamo di livello, effettivamente mettiamo in pratica un passaggio di fatto dalla terra a un livello superiore. Il saltellare è proprio dei bambini piccoli, quando sentono una musica bella oppure quando entrano in uno stato di gioia, le mamme lo sanno molto bene, il bambino spontaneamente saltella. Ecco la Pasqua in qualche modo ci fa accedere a un livello più alto, ci illumina perché ci fa, ci stacca da terra e ci fa aprire gli occhi sulla realtà a partire da un'altra dimensione. E tutto questo succede, lo vediamo in questo testo del Vangelo che ci permette proprio di cogliere come viene prodotto in noi questo impulso del movimento che ci stacca da terra, ci alleggerisce, ci permette di vedere le cose alla luce del risorto, alla luce di una nuova sapienza. Siamo giunti in questo testo al punto in cui Gesù presenta a Nicodemo la persona dello Spirito Santo, dice che lui come ciascuno di noi deve rinascere dall'acqua, dallo Spirito che è appunto il vento, il soffio di Dio che ci fa udire la voce, ci comunica la natura sua che è libertà. Ma Nicodemo non capisce, continua a non capire e Gesù gli fa notare in questo testo di oggi che un uomo come lui dovrebbe capire perché è un sapiente. Nicodemo in effetti non capisce. Ecco è bello questa realtà in cui si trova Nicodemo. Nicodemo si trova di fronte a un limite suo, un limite che non pensava di avere perché lui è saggio in Israele, conosce le scritture, conosce la cultura, le tradizioni ebraiche, non pensava di trovarsi davanti a questa oscurità, a questa incomprensione. E perché? Perché forse è troppo sicuro della sua sapienza, non conosce la sapienza di Dio che supera la sapienza umana, perché la sapienza di Dio si realizza, lo dice Gesù nelle sue parole, lo fa capire, si realizza nell'abbassamento. Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. In queste parole c'è il senso della Pasqua e anche del nostro battesimo che Gesù esprime come questo duplice movimento di abbassamento e innalzamento. Il figlio dell'uomo si abbassa, ma questo abbassamento che lui compie provoca l'innalzamento che lui non compie, perché il verbo è al passivo, deve essere innalzato il figlio dell'uomo. Allora chi compie l'innalzamento del figlio dell'uomo? Lo Spirito Santo. È lui che innalza la profonda umiltà di Gesù, del figlio di Dio e ci fa vedere questo abbassamento come un innalzamento. Vedete lo Spirito Santo ci cambia il punto di vista, ci capovolge i criteri e capovolge anche i criteri di fama, di celebrità che aveva Nicodemo anche verso se stesso. Gesù è innalzato dallo Spirito come re, ma non secondo i nostri criteri. Gesù è innalzato, lo dice lui, come quel serpente che è innalzato da Mosè nel deserto, che guarì il popolo colpito dall'epidemia nel deserto, perché è dalla croce che dona lo Spirito, il soffio di vita. Ecco dunque che in questo testo troviamo, lo dicevamo questo duplice movimento abbassamento e innalzamento di Gesù, la cui vita è offerta per noi nella sua Pasqua, quindi questo movimento duplice si compie nella Pasqua del Signore. Ma questo movimento proprio perché appartiene alla Pasqua del Signore è anche il nostro movimento, perché è quello che siamo chiamati noi a vivere grazie al Battesimo. Lo spiega San Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 6, versetto 4, in cui scrive per mezzo del Battesimo siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ed ecco allora lo Spirito Santo, che è l'amore che mette tutto in movimento, che crea relazione, che crea danza, armonia, che fa camminare gli uomini in una vita nuova. Forse non ce ne accorgiamo, ma il Vangelo ce lo mostra oggi. Ciascuno di noi dal giorno del suo Battesimo è dentro questo movimento d'amore per il quale come Cristo più si abbassa davanti all'altro e più viene innalzato dallo Spirito, così anche noi più ci abbassiamo davanti all'altro più siamo innalzati davanti a Dio, per grazie al mistero della Pasqua di Cristo. Chiediamo allora oggi a Gesù risorto di darci la gioia di percepire in noi questo movimento dello Spirito Santo nella nostra vita, che ci doni la gioia di saperci abbassare per farci innalzare da Lui, perché possiamo entrare e camminare nella vita nuova, entrare nella vita vera. Buona giornata!